ciao da fatina birichina e spinky picchio oggi vogliamo presentarvi due bellissimi e carissimi amici allora abbiamo flop ciao sono flop e bing ciao sono bing siete davvero carini e noi siamo contenti che voi siate arrivati qui a casa nostra allora dobbiamo dirvi una cosa guardate un po flop è bellissimo è proprio fatto di lana come nel cartone invece bing è morbidissimo è di ciniglia tutto bellutino morbido morbido ma anche flop però è morbido bello imbottito sono davvero belli allora vediamo un attimo ciao flop ciao sono qui con bing ciao sei contento bing che siamo qui sul canale di fatina birichina sì bene allora anche noi siamo contenti facciamo un po vedere flop allora flop ha tutte le cuciture proprio di un pupazzetto fatto con la lana ma flop che animale è un orsetto è un coniglietto è vero guarda alle orecchiette da coniglietto vediamo se ha la coda no flop non ha la coda ok e poi agli occhietti e nasino la boccuccia ricamati e poi le zampine sono fatte di feltro e invece bing guardate che amore anche lui o gli occhietti il musetto ricamato le orecchie qui l'interno invece è stampato ha il ciuffetto in feltro e bing si che ha la codina che bello è morbidissimo col suo bottone andiamo a vedere cosa c'è qui all'interno mi fa vedere che ci sono anche altri personaggi che sono spinghi quali sono gli altri personaggi bing sulla pando amma flop e charlie ecco perché dobbiamo collezionarli tutti vero che dobbiamo collezionarli tutti e poi qua dentro c'è anche bing che suona con doppietta